queste considerazioni. Soffriamo magari un poco, sì, ma è importante che siamo tutti insieme adesso in quel momento, è importante che anche i tifosi aiutino tutti, i giornalisti, che siamo insieme e poi quando siamo un gruppo insieme tutti, tutto va bene, ma però è tutto da noi, da giocatori sempre. Senti Luca, ha detto una cosa importante.